Agro Rinasce è un consorzio di comuni, Casa di Vincenzo, San Cipriano, Casa Presenna, di Laliterno, San Marcellino e Santa Maria Fossa. Operiamo da 20 anni in quest'area, soprattutto nell'amministrazione e gestione di beni confiscati alla Camorra, però anche in altre iniziative che riguardano il sistema scolastico, oppure la creazione di occupazione o la riqualificazione urbana. Siamo andati per l'iniziativa del Ministero dell'Interno nell'ambito del Pono Sicurezza 94-99 e da allora in ogni quadro comunitario di sostegno abbiamo utilizzato fondi europei per progetti di valorizzazione di beni confiscati alla Camorra, sia per uso sociale che per uso pubblico e ultimamente anche per finalità produttive. Quindi noi abbiamo teatri, centri sportivi, parchi, ma anche scuole e poi abbiamo cercato di soddisfare tutti i bisogni sociali, sociosanitari e pubblici con i beni confiscati alla Camorra. Pensando alle donne vittime di violenza, ai minori, sia in area penale che disagio familiare, ma anche alla disabilità fisica, disabilità mentale, immigrati e recupero di detenuti per reati non gravi.